Cari amici di Visione TV, ben ritrovati a fare il punto del giorno assieme a me. Oggi c'è Alessandro Cappuzzo a nome del tavolo per la pace del Friuli Venezia Giulia. Benvenuto. Buongiorno a te e a tutti voi. Buongiorno a te. Tu Alessandro recentemente hai scritto una lettera al prefetto di Trieste avente per oggetto la richiesta di rinnovo dei piani d'emergenza in caso di incidente nucleare militare al porto di Trieste. Questa notizia è interessante nonché d'attualità sia per la particolare posizione di Trieste nel contesto nazionale sia a causa del contesto internazionale che quindi ci permetterà di parlare anche di qual è il posizionamento dell'Italia nell'ambito del movimento per il disarmo. Io ti chiederai innanzitutto se puoi contestualizzare questa lettera perché la vostra richiesta riguarda proprio il porto di Trieste. Dunque il porto di Trieste è uno dei 12 porti italiani che il governo ha messo a disposizione degli Stati Uniti d'America e della Nato per lo scalo di naviglio a propulsione nucleare. Può essere tutto il tipo di naviglio da sottomarino a incrociatore a portaerei eccetera. Questi porti sono sottoposti a uno status un po' particolare perché alcuni sono basi militari vere e proprie come Taranto, La Spezia, Augusta. Altri sono porti di transito, cioè porti che possono ospitare queste imbarcazioni e Trieste è uno di questi. Trieste poi vive un contesto particolare perché oltre a essere praticamente contigua al confine con la Slovenia e fra l'altro anche con la Croazia che è molto vicina, e condivide questa posizione di porto nucleare militare di transito con la vicina capodistria Copper in sloveno che è divenuta porto militare nucleare di transito dopo l'adesione della Repubblica di Slovenia alla Nato che se ricordo bene è stata nel 2004 a seguito di un referendum combinato, cioè un referendum che ha visto la votazione del popolo sloveno sia per l'adesione all'Unione Europea sia per l'adesione alla Nato. Questo è il quadro generale. Ecco, poi ci sono tanti fatti che nel frattempo sono avvenuti e che hanno modificato la situazione, il più eclatante dei quali ovviamente è quello che stiamo vivendo nei confronti della guerra in Ucraina e che sta mettendo l'argomento all'ordine del giorno anche di una stampa e di un'informazione istituzionale che finora nascondeva l'argomento sotto il tappeto. Io leggo dalla lettera che tu hai firmato. Trieste nell'elenco dei porti messi a disposizione dal governo italiano per il transito e la sosta di navi sommergibili da guerra a propulsione nucleare di flotte alleate che potrebbero detenere ordigni nucleari a bordo. Quindi spieghiamo anche questa differenza perché la propulsione nucleare è una tecnologia di movimentazione che riguarda i motori ed è in essere da diversi anni a livello appunto di transito. In aggiunta a ciò il Tavolo per la Pace dice, vista la situazione internazionale, noi temiamo che le navi in transito possano ospitare anche delle tecnologie belliche di natura atomica. Chiaro. Allora, il discorso è in realtà contiguo da sempre. Ci sono due o tre situazioni diverse che convergono. Il primo, teniamo presente che adesso nella lettera mi pare che sia riportato, non mi ricordo a che punto esattamente, alcuni anni fa, qualche decennio fa, l'incrociatore americano Belknap ebbe una collisione nel mare Ionio, quindi presso le coste italiane, con la portaerei Kennedy e prese fuoco. In quella circostanza salve che l'incrociatore aveva a bordo missili contestati nucleari. L'incendio fu fermato a pochi metri da questi depositi. Tutto questo è saltato fuori solamente perché c'è stato l'incidente e perché il governo americano, dopo un tot numero di anni, desecreta parzialmente i documenti. Allora, in Italia di queste cose non si sa nulla. Il segreto di Stato ha coperto tutti i fatti che riguardano il nucleare militare per decenni. Il fatto di avere, dagli anni 90, una normativa europea che l'Italia ha dovuto recepire per informare la popolazione e redare dei piani di emergenza in caso di incidente sul nucleare è un fatto che ha cambiato parzialmente le carte in tavola. Ora come ora, a distanza di 20 anni quasi dall'emissione dei primi piani di emergenza, le cose sono ancora diverse perché è intervenuta una nuova legislazione europea recepita dall'Italia con sette anni di ritardo che introduce altri argomenti ancora e che rende un pochino più trasparente ancora, potenzialmente parlando, la trattazione dell'argomento in tempi normali. Ma quelli che stiamo vivendo non sono più tempi normali perché le minacce di uso delle armi nucleari sono sui giornali che leggiamo ogni giorno. La gente le vede e finalmente si rende conto di quali, o almeno si presume che si renda conto, di quali sono i pericoli che abbiamo corso per decenni e che tuttora corriamo. C'è poi anche la questione della presenza della base di Aviano in Friuli, Venezia Giulia, dove sempre secondo questo documento che mi hai sottoposto sono recentemente in corso alcune novità perché tu scrivi, è noto da fonti governative giornalistiche l'ormai prossima sostituzione delle bombe nucleari B61 a Caduta, dislocate appunto ad Aviano, che è una delle due basi, dei due siti in Italia che ospitano testate nucleari con le B61-12. A differenza delle prime, sono adottate di supporto missilistico e sono atte a penetrare nel terreno. La loro potenza può assumere valori diversi su uno spettro 50 volte minore oppure maggiore dell'ordigno dell'olocausto a Hiroshima. Ancora scrivi, ciò rompe un tabù esistente cancellando la differenza fra bombe nucleari e convenzionali. Ci sono forse delle novità su questo? Io, a quanto ho potuto leggere dagli articoli degli organi di stampa, la notizia più recente è che un aereo F-35, di quelli che sono quindi predisposti a sganciare questo tipo di ordigni è stato consegnato alla base di Ghedi, quindi non quella di Aviano, bensì l'altra. Che cosa sappiamo in merito? La prima cosa da dire è importantissima ed è il fatto che gli avieri italiani sono addestrati all'uso delle bombe nucleari nella base di Ghedi. con gli F-35. Nella base di Aviano operano solamente avieri americani. È una base americana, nemmeno nato, comandata da un colonnello italiano che però ha ben voce in capitolo, ben poca voce in capitolo sulla gestione degli ordigni nucleari. Ordigni nucleari che anche a Ghedi sono gestiti dalla forza americana, ma sono oggetto di addestramento e quindi di possibilità di uso da parte dell'aeronautica italiana. Per quanto riguarda Aviano in particolare, abbiamo prima ancora che a Trieste abbiamo presentato al prefetto di Pordenone analoga richiesta di redazione, non di aggiornamento, dei piani di emergenza in caso di incidente nucleare. questo perché la base di Aviano è ancora più off limits del porto nucleare triestino. Non esiste notizia di piani di emergenza esistenti in caso di incidente nucleare ad Aviano. Quindi la richiesta stessa è una novità in argomento, non ovviamente nel senso delle iniziative del movimento pacifista che hanno radici profondissime e antiche rispetto alla base di Aviano. Prova ne sia che è già stata intentata una causa civile in passato per ovviare alla presenza delle bombe, ma purtroppo è stata fermata non è ben chiaro ancora esattamente perché. Comunque ad Aviano i piani di emergenza non risulta esistano, quindi la popolazione è all'oscuro di cosa e come comportarsi in caso che gli succeda qualche cosa. che cosa potrebbe accadere dal vostro punto di vista? Forse la presenza di una base americana rende il territorio più sensibile in vista di un eventuale allargamento del conflitto su scala europea? E questa è la vostra preoccupazione? Guarda, i rischi sono di tre tipi grosso modo. Un rischio di semplice incidente come per esempio è accaduto ai missili americani nucleari che stavano a Gioia del Colle in Puglia e che sono stati colpiti da fulmini e hanno rischiato di esplodere. Un rischio di attentato come per esempio c'è stato all'oleodotto Siot al porto di Trieste 50 anni fa e il rischio di atto bellico deliberato ovviamente cioè di guerra e la base di Aviano è uno dei primi siti dove un eventuale scoppio di guerra con la federazione russa o i suoi alleati potrebbe trovare insomma sbocco. Quindi la situazione è veramente seria. Uno studio realizzato è presentato alla conferenza ONU di Vienna del 2014 sull'impatto umanitario delle armi nucleari prefigurava un fallout radioattivo da Aviano in caso di esplosione nucleare che con venti prevalenti da sud sarebbe arrivato fino all'intera Polonia. l'Austria si è allarmata. Tornando invece alla questione del porto di Trieste nel 2007 a seguito di richieste avanzate appunto dalla tavola della pace ma anche da diverse associazioni ambientaliste e sindacali la prefettura emise un piano d'emergenza in caso di incidente nucleare militare in porto come imposto dalla legge della normativa sovraordinata. Questo piano si può reperire facilmente sul web lo faccio anche vedere si tratta di un documento tecnico molto lungo molto specialistico dove in estrema sintesi si descrivono tutte le misure di prevenzione nonché di azione qualora si dovesse verificare un incidente su eventuali mezzi a propulsione nucleare che si trovino in transito nel Golfo di Trieste quindi anche con l'elenco di tutti gli enti coinvolti e le loro rispettive competenze le misure da mettere in atto per proteggere la popolazione a seconda dei livelli di emergenza individuati che possono essere da minimi a maggiormente gravi ha detto ciò che cosa si chiede di aggiungere nella vostra lettera quali sono gli aspetti da implementare a vostro avviso ma allora intanto bisogna dire che a monte visto che l'Italia aderisce al trattato di non proliferazione nucleare comunque non è dato di sapere se le armi di distruzione di massa siano presenti sulle navi ospiti quindi il piano non cita assolutamente la presenza di ordigni nucleari a bordo delle navi ma comunque i reattori nucleari militari che sono alla base del movimento di queste navi non sono sottoposti alle norme di sicurezza previste per gli impianti nucleari civili e inoltre sono vincolati dal segreto quindi questo già questo fatto è anacronistico dopo che il nostro paese si è espresso due volte con il referendum contro il nucleare questi motori poi sono alimentati da uranio arricchito che è a vari gradi a seconda dell'utilizzo che ne viene fatto questo tipo di uranio poi può essere utilizzato anche per le armi nucleari arricchito ulteriormente quindi è tutto un gioco che si alimenta da se stesso un po' come un serpente che si morde la coda alla alla fin fine il nucleare civile serve a produrre energia ma serve anche e forse anche principalmente alla produzione delle armi nucleari perché gli avanzi del nucleare italiano vengono riprocessati in centri appositi in Francia o altrove per ricavarne plutonio per le bombe nucleari allora tutte queste cose la gente non le sa e perfino parte dei movimenti giovanili che si riconoscono in Fridays for Future eccetera sono convinti che il nucleare sia un'alternativa al insomma al cambiamento climatico in corso nel senso di ridurre le emissioni di CO2 ma è una bufala gigantesca cioè veniamo letteralmente presi in giro dai responsabili di queste lobby che sono strettamente connesse fra nucleare civile e nucleare militare comunque tornando alla domanda scusate che riprendo un attimo il foglio qui per fare mente locale riguardo alla stesura del piano di emergenza ci siamo permessi di avanzare alcune proposte al commissario del governo di trieste perché alcuni esperti ci hanno iniziato a mandare delle idee su come migliorare questi piani è solamente un primo inizio così per vedere se è possibile intavolare un tavolo di confronto con le autorità preposte intorno a questi problemi ecco leggo letteralmente quello che abbiamo scritto così è più chiaro esso dovrebbe esso il piano dovrebbe essere frutto di valutazioni ed elaborazioni di esclusiva competenza delle autorità italiane tanto per cominciare con carattere vincolante per le navi ospiti la nuova normativa concede spazi in proposito anche per il ruolo del nuovo ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione è importante che il documento tecnico previsto per la redazione del piano che dovrà essere redato dal ministero della difesa non a caso tenga conto e faccia riferimento alle procedure di emergenza della nave ospitata in Rada perché la nave deve avere già di suo delle procedure del genere si tratta di documenti militari che sia pure emendati in alcune parti come ben si sa e si capisce devono essere messi a conoscenza delle autorità italiane che talvolta nemmeno li conoscono al fine di integrare le misure previste nel piano di emergenza non si può predisporre un piano di emergenza esterna per le aree portuali attendibile senza conoscere cosa il comandante della nave è tenuto a fare in caso di incidente e voglio ben vedere circa l'allontanamento della nave scusa se ti interroppo su questo possiamo quindi riassumere se ho capito bene le navi militari battenti bandiera straniera che transitano non sono vincolate alla legge italiana in questo momento voi chiedete di attribuire un maggiore peso un maggiore controllo alle autorità italiane sono certamente sono vincolate per quanto riguarda quello che sta scritto sulla legge che ha recepito la direttiva europea per la stesura dei piani di emergenza però non è detto che ad esempio come è stato citato prima che i documenti di prevenzione che le navi sono tenute ad avere di suo diciamo ma che sono navi di una potenza straniera che magari non ha nessun interesse a divulgare segreti militari suoi anche noi pursi alleati quindi si chiede che questi documenti siano comunque messi a disposizione cioè che lo Stato italiano nella sua autonomia si decida ad essere più autonomo in sostanza e a contribuire meglio alla protezione della sua popolazione per quanto possibile purtroppo ci sono dei dati che fanno pensare a ha tirato i remi in barca in questi argomenti da parte dello Stato e non solo perché per fare un esempio molto banale la decontaminazione della popolazione nel caso di incidente nucleare in porto sempre militare ovviamente era demandata a un luogo di ritrovo che sarebbe stato dico al passato e mi spiego perché una piscina terapeutica di acqua marina di 33 metri di lunghezza in un edificio che è crollato qualche anno fa e che non è stato mai finora ricostruito né tanto meno spostata questa funzione ad altro edificio o comunque luogo adatto sempre ammesso che questo lo fosse stato andando avanti stavi dicendo che per quanto riguarda l'allontanamento della nave un solo rimorchiatore non è sufficiente a spostare un'imbarcazione di grandi dimensioni questo è un dato più tecnico diciamo nel senso che stiamo parlando di navi militari che non si trovano in banchina perché i punti previsti per il loro oimeggio sono lontani dalla costa più lontani dalla costa si trovano in fronta e qualora ci fosse un incidente con la fuoriuscita di materiali radioattivi servirebbero degli ulteriori mezzi per allontanare questa nave in modo che non risulti dannosa per la popolazione con le sue perdite e con somma celerità pure c'è ancora un'altra richiesta che abbiamo rivolto quindi scusa voi vorreste finiamo di dire chiedere che i rimorchiatori a supporto della gestione di un eventuale incidente fossero due invece che uno sì ma certamente perché nel caso di una portaerei come la Truman che ha visitato Trieste pochi mesi fa e sulla quale abbiamo costruito sulla visita della quale abbiamo costruito una manifestazione presso il caco di Nagasaki piantumato in città vicino allo studio di Basaglia per la cronaca appunto nel caso della Truman sarebbe impossibile per un piccolo rimorchiatore portuale portarla all'esterno pure se magari una nave di appoggio è previsto che comunque ci sia una nave della stessa marina voglio dire sempre americana che accompagna la Truman nelle sue soste nave Truman peraltro a parentesi perché è proprio necessario in questo momento che sempre poche settimane fa stazionava in Adriatico e presso la quale si trovavano uno o due sottomarini russi probabilmente anche nucleari probabilmente non ne abbiamo la certezza non ne abbiamo non abbiamo notizia ma molti sottomarini russi sono a propulsione nucleare come quelli francesi americani inglesi eccetera su questo magari torniamo dopo perché ti vorrei fare una domanda specifica prima però concludiamo con le richieste della TAP della pace l'ultima è un monitoraggio periodico del livello di radiazioni al suolo che cosa significa questo è un'altra richiesta che abbiamo rivolto anche all'autorità portuale è che da subito si predisponga un monitoraggio periodico e quindi costante del livello di radiazioni al suolo per una profondità di alcuni chilometri e un equivalente monitoraggio radiale cioè a circonferenza delle acque marine per una distanza di 30 chilometri dal porto e questo per fissare il valore di fondo esistente rispetto al quale si registreranno eventuali variazioni di radioattività in presenza di naviglio a propulsione nucleare e anche per poter valutare se ci siano o meno rilasci radioattivi da parte di queste navi pure in condizioni non incidentali cioè non a causa di un incidente ma anche semplicemente per la loro presenza questo tracciamento deve essere relazionato allo stato delle correnti nel golfo ovviamente ci sembra da articoli di stampa che abbiamo consultato che qualcosa sia stato messo in opera in questo senso cioè che dal punto di vista legislativo qualcosa sia stato già messo in piedi ecco per un altro come prevenzione questo è la sensazione che ci ha dato leggere alcuni articoli di stampa abbiamo saputo un prelievo un campionamento diciamo radioattivo è stato fatto ma non abbiamo notizia esattamente di a che scopo perché insomma nel quadro di che metodologia di intervento prima tu hai citato i due referendum sul nucleare a questo proposito vorrei allargare il discorso al ruolo dell'Italia quindi al piano nazionale perché sempre dalle fonti e dai documenti citati in questa lettera si evince che l'Italia aderisce al trattato di non proliferazione nucleare del 1968 questo documento tuttavia successivamente è stato superato dal trattato delle Nazioni Unite di proibizione delle armi nucleari entrato in vigore il 21 gennaio 2021 e l'Italia non ne fa parte in osservanza agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Alleanza Atlantica quindi qual è la differenza fra questi due documenti che cosa comporta il fatto che l'Italia non partecipi al secondo è presto detto dopo decenni di inattuazione dell'articolo 6 del trattato di non proliferazione nucleare che prevedeva un disarmo in buona fede da parte di presi contraenti che sono la stragrande maggioranza praticamente tutti dopo appunto svariati decenni di inazione in proposito ben 122 paesi hanno convocato un'assemblea delle Nazioni Unite anzi una conferenza delle Nazioni Unite e hanno proposto e approvato un nuovo trattato un nuovo trattato che si chiama di proibizione delle armi nucleari un trattato che è entrato ufficialmente in vigore appunto lo scorso anno a gennaio dopo la cinquantesima ratifica da parte dei paesi delle Nazioni Unite c'è tutto un percorso nella redazione e elaborazione e entrata in vigore dei trattati internazionali dell'ONU quindi prima c'è stata una redazione una confronto in sede di conferenza e approvazione del trattato di seguito è stato necessario attendere che almeno 50 paesi lo ratificassero a quel punto è entrato in vigore e fa parte a tutti gli effetti del diritto internazionale a questo punto sono 68 i paesi che l'hanno ratificato e pochi mesi fa a giugno si è svolta la prima conferenza di revisione di questo trattato a Vienna io ci ho partecipato c'è stata anche una serie di iniziative collaterali organizzate promosse da ICAN l'organismo non governativo che ha preso il Nobel per la pace nel 2017 per il lavoro di promozione di questo trattato sì e insomma questo trattato è stato ostacolato in tutti i modi dalle potenze nucleari che in questo senso si sono trovate perfettamente amiche le nove potenze nucleari sono nove Stati Uniti Russia che hanno la stragrande maggioranza degli ordini nucleari Cina Gran Bretagna Francia India Pakistan Corea del Nord e Israele loro hanno fatto un lavoro di lobby ma gli Stati Uniti in particolare per cercare di stroncare questo trattato ma non ci sono riusciti tuttora stanno lavorando perché gli Stati parte perdono gli Stati che hanno costruito il trattato i famosi 122 o altri non ratifichino il trattato e quindi il trattato rimanga come dire minoritario nell'ambito del diritto internazionale però lentamente ma gli Stati si convincono e ratificano in questo prego volevo chiederti visto che dicevi che hai partecipato personalmente alla conferenza di Vienna che si è svolta questo giugno assieme a rappresentanti dei paesi che hanno sostenuto il trattato di proibizione delle armi nucleari se volevi dirci qualcosa di più in proposito come è andata che clima si respirava ma il clima era ottimo nel senso che i lavori sono andati lisci come l'olio è stato prodotto una dichiarazione finale che diciamo il punto focale è che che esprime è che l'articolo 6 del trattato di non proliferazione è in pratica realizzato da questo nuovo trattato quindi si replica alle potenze nucleari convintamente che il percorso di disarmo configurato dal vecchio trattato degli anni 60 ormai va avanti è stato deciso e si persegue quindi un notevole passo avanti che purtroppo le minacce nucleari che arrivano dalla guerra in Ucraina e non solo rischia di bloccare però appunto c'è anche un problema di resistenza si sta cercando di giungere a una non gratifica in che senso scusami non ho capito mi ricollegavo a quello che stavi spiegando poco fa volevo capire meglio in che modo questo trattato sta incontrando delle resistenze nella sua applicazione ma c'è un'azione di lobby fenomenale portata avanti da tutta la lobby nucleare sia civile che militare perché in realtà anche il nucleare civile come ho avuto modo di spiegare prima si regge in larga parte sull'esistenza del nucleare militare e quindi c'è un groviglio di interessi mostruoso per miliardi ma per centinaia per migliaia penso di miliardi di euro che vengono di dollari che vengono coinvolti nella lobby nucleare generale planetaria che rema contro in maniera ossessiva poi collegata anche alla lobby delle armi in generale al lobby finanziaria che sta dietro quindi c'è una fortissima spinta per cercare di bloccare questo trattato e di fare in modo che sia depotenziato che non sia preso in considerazione seriamente dall'assemblea dei paesi del mondo ho capito adesso mi è chiaro c'è un'ultima cosa che vorrei chiederti una tua impressione riguardo l'atmosfera l'aria che si respira in questo momento proprio ieri sul blog di Visione TV abbiamo pubblicato un articolo che si intitola rischio nucleare esercitazioni e strani acquisti che cosa sta succedendo in occidente in cui si cerca di fare il punto sui fatti su ciò che conosciamo per esempio gli Stati Uniti hanno appena fatto un grande investimento nell'acquisto di farmaci utili a contrastare gli effetti della radioattività sul corpo umano la Spagna la protezione civile spagnola nello specifico ha comprato 400 megafoni cito testualmente per diffondere allarmi alla popolazione nel caso di un'eventuale emergenza nucleare ma allargando il discorso io penso anche alla premier inglese di Missionaria Liz Truss che prima di diventare premier si era detta pronta a schiacciare il pulsante della bomba atomica mi chiedo quanto c'è di reale pericolo e di reale esigenza di fare informazione e prevenzione in questa situazione e quanto invece non si rischia di cadere nell'estremo opposto che è l'allarmismo ingiustificato che naturalmente allo stesso modo non va bene ma è difficile rispondere a questa domanda cioè non resta che informarsi il più possibile visto che anche non è proprio semplicissimo farlo e prendere una decisione individualmente o collettivamente rispetto a che cosa si ritiene opportuno fare oppure meno cioè non so io posso dare notizia di quello che stiamo cercando di fare a Trieste per esempio noi abbiamo presentato alle Nazioni Unite alla conferenza di istituzione del nuovo trattato ONU una proposta di denuclearizzare il Golfo di Trieste e l'abbiamo sottoscritta insieme al ex sindaco di Capodistria in Slovenia e sappiamo che per quello che ha prodotto il trattato di proibizione delle armi nucleari e anche per l'esistenza del trattato di pace con l'Italia del 1947 dopo la seconda guerra mondiale questa zona della Mitteleuropa diciamo così ha la possibilità di agire in questo senso e il documento finale della conferenza del giugno scorso di Vienna ci dà conforto in questo senso perché parla di iniziare delle implementazioni pratiche del nuovo trattato si tratta di scegliere che cosa si vuole e soprattutto che cosa si può fare e continuare a informarsi il più possibile sempre ammesso che per parlare di allarmismo forse non tanto gratuito sempre ammesso che qualche bomba sporca cosiddetta in Ucraina o in altri territori non si è fatta scoppiare proprio per continuare invece a imbonirci di nucleare senza soluzione di continuità difficile dire di più in questo senso è chiaro grazie per essere stato assieme a noi ti chiedo se c'è qualcosa che vuoi aggiungere prima che ci salutiamo ma io spero veramente che visto che Trieste è stata o agli onori della cronaca anche a livello internazionale l'anno scorso per le iniziative che sono state prese dal movimento no green pass in generale ma anche dai portuali della città per cercare per cercare di democratizzare la situazione che si stava formando nell'apice della pandemia credo che da questa città possa spero ovviamente partire anche un segnale importante rispetto a quanto sta succedendo ora con la guerra e con la volontà da più parti espressa senza troppo contraddittorio di portarci dentro questa guerra grazie mille a presto grazie a voi a tutti quanti voi arrivederci io ringrazio e saluto anche voi per averci seguito e come sempre vi ricordo che Visione TV essendo una testata indipendente ha bisogno del vostro aiuto voi potete supportarci donando i numeri in sovraimpressione tramite bonifico oppure tramite paypal o ancora andate su www.visionetv.it e sottoscrivete un abbonamento grazie e alla prossima grazie a tutti